Minic al servizio, il flottante ricevuto da Gennari, Orro libera Groben alla pipe, c'è Nicoletti in copertura di Giulio, alza lì per Villani, poco convinta, infatti non passa oltre il muro, allora di Giulio sceglie Nicoletti che va decisamente meno per il sottile, la palla contesa a Filorete, Deveglia perde ma salva, Orro non riesce a chiudere il punto, Leonardo in grande salvataggio, Gennari alza il bagger per Herbos, la palla passa dopo la toccata del muro, ancora l'attacco di Villani, ancora il salvataggio di Herbos che poi si ripropone, finta, appoggia di là, scavalcando il muro, non basta, Rivero di potenza, Leonardo tiene quel pallone, Orro all'indietro per Groben, che alla fine chiude, col mani fuori, uno scambio bellissimo! All'è, giù per De Cruyff, la palla viene giocata ancora da Scandicci, che bella partita ragazzi, l'attacco di Mirian Silla, si rigioca, in bagger Merlo, Akr che passa in mezzo al muro, però c'è Hill in fondo, la rigioca, Love, ancora Volos con una mano, Mirian Silla ci prova, ancora una volta, Merlo in bagger, Malinov che spinge su Bosetti, tiene De Gennaro dalla parte opposta, si rigioca ancora, Malinov che va a pescare, mamma mia ragazzi, non finisce più questo scambio, bellissimo, l'attacco di Lowe termina fuori ed è uno scambio sul 14 a 12, prendete nota, uno scambio nel primo set, fantastico! Ora proprio lei a servire la sua battuta in salto, forte su Angelina, l'eccezione sui tre metti, Polter per Jasmin Akrari, si resti, tiene, cambi all'indietro per Smarzek in copertura, Polter, palleggio all'indietro Bresciani, Angelina ma tiene incredibilmente Mingardi in difesa, il pallonetto, Cisal Silva, Bresciani ancora, Angelina in qualche modo, ora free ball per Bergamo, cambia per i quattro per Roslandia, costa ancora Bresciani in difesa, Polter, Angelina, Sirressi, difende allora, cambi ancora per la costa, ancora Bresciani, Olivotto, cambi, Malvina Smarzek la risolve, Malvina Smarzek, l'opposto di Bergamo! Quindi attenzione perché potrebbe risolversi qui, lo scontro diretto tra e più Bomi Casal Maggiore e Saugella Timboza a servizio di Recell Adams su Caterina Bosetti, palla staccata, deve correre Ilaria Spirito, Alexa Gray a colpire alto sulle mani del muro, Anne Bausch murata da Valentina Arrighetti, Mike Hancock per la pipe di Anna Ortman, ci arriva Ilaria Spirito, Caccia Scorupa per Daniel Cuttino, altra muratona di Anne Bausch, Alexa Gray contenuta dal muro, salvataggio di Recell Adams, Anne Bausch alto ancora sul muro di Valentina Arrighetti, Caccia Scorupa per Caterina Bosetti, salvataggio di Anna Ortman, Serena Ortolani ad una mano Caterina Bosetti, Caccia Scorupa per Alexa Gray, c'è il muro, ancora la copertura di Ilaria Spirito, Caccia Scorupa per il pallonetto di Daniel Cuttino, arriva il salvataggio di Recell Adams e poi la murata su Anne Bausch. Dateci una bombola d'ossigeno, grazie. Dateci una bombola d'ossigeno, grazie.